Nonostante una positiva gara di ritorno terminata 3 a 3, lo Sporting Club Montecatini non è riuscito a raggiungere la salvezza cedendo il passo al tennis Palermo. A compromettere l'esito di questo doppio spareggio era stata la brutta prestazione dell'andata, con i termali battuti sul proprio terreno per 4 a 2. Difficile quindi il recupero in Sicilia, anche se l'andamento del match a un certo punto aveva lasciato un po' di margine alla possibile impresa dei ragazzi allenati dal tecnico federale Daniele Balducci. Con i singolari finiti in parità, 2 a 2 per le vittorie di Filippo Ghio e Leonardo Braccini e le sconfitte di Federico Malanca e Tommaso Checcaglini, la permanenza in categoria dipendeva dagli scontri in doppio che hanno visto il successo di Montecatini con la coppia Ghio-Checcaglini e purtroppo la battuta d'arresto a quel punto decisiva del duo Braccini-Malanca. Ora per il team del presidente Alberto Bandini si prospetta un progetto di ricostruzione, partendo magari dalla Serie C e da un gruppo di giovani, alcuni dei quali sembrano già pronti da prendere in considerazione. Comunque c'è anche l'eventuale proposta di un ripescaggio.